Puoi fare il giro completo? E poi torna indietro. Lo facciamo perché è in basso. L'uva dall'altro. Tutti i armadi, lecce, 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 lecce. Lo fate andare indietro adesso. La continua ancora? Si, lo fa già fino a 360 gradi. Non c'è. Mi andiamo a smettere. Non c'è. 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 La soluzione è il solito in un grado. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti